Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buon giovedì a tutti, ci rivediamo per parlare oggi sì di Calcio Mercato Lazio, quindi mi raccomando un bel like, facciamo almeno 300, dai forza, iscrivetevi al canale perché per me è importantissimo e a voi non costa nulla e recuperate anche il video di ieri che ho parlato di due temi non di campo, non di Calcio Mercato ma sempre in ambito Lazio diciamo interessanti, lo trovate qua in alto a destra nelle schede. Ma tuffiamoci nella rumba del Calcio Mercato perché siamo al 22 luglio a un mese dall'inizio del campionato, la Lazio già si è mossa sul mercato, non ha ufficializzato ancora gli acquisti perché c'è l'indice di liquidità che ribadisco c'è solo per la Lazio, scherzo ma più o meno è così, che blocca appunto l'ufficializzazione di Felipe, di Isai perché la Lazio deve cedere, ok? Correa adesso è bloccato, quindi è per quello anche che il mercato al momento è abbastanza fermo e poi ci sono i vari esuberi, Dumisi, Johnny, Vavro, tanti giocatori che non so se rientreranno nel progetto Lazio, Jordan, Lukaku, vediamo, però adesso abbiamo una rosa extra large, quindi bisognerà accedere per comprare. La pista Correa-PSG purtroppo si è raffreddata, non tanto purtroppo perché Correa, sapete che un giocatore, un mio pupillo, mi piace molto e secondo me nel 4-3 di Sarri si potrebbe adattare benissimo a fare l'esterno sinistro, anche se non è un esterno puro e Sarri l'ha anche ribadito in conferenza stampa. Però, ragazzi, se Correa vuole andare via, ha manifestato questa voglia e poi purtroppo uno bisogna cederlo, ok? Che sia Luis Alberto, però l'otito spara alto giustamente, quindi difficilmente troveremo una società che investa 60-50 milioni per il giocatore spagnolo e poi sinceramente io Luis Alberto me lo tengo stretto al di là poi del carattere che non mi piace alcune uscite, esternazioni che fa. Quindi, mi devo rassegnare, scusatemi, a perdere Correa, in seguito però a un acquisto di un altro esterno, ma che non è Caleon, perché è stato proposto Ose Maria Caleon, il suo entourage si è proposto alla Lazio, lui è nella Fiorentina, ha un contratto ancora di un anno, se non erro, giocatore finito, forse esagero, ma comunque sul viale del tramonto, negli ultimi due anni sia a Napoli, soprattutto a Firenze, non ha mai visto il campo, diciamo, anche a causa di infortuni. Però, ecco, vi voglio il messaggio è questo, che dovesse arrivare Caleon non esclude l'arrivo di un altro esterno, è chiaro, però in seguito alla cessione di Correa, che al momento è ferma, anche perché l'otito comunque chiede abbastanza, 30-35 milioni per Correa, è una cifra, non so se sia giusta o sbagliata, però nel calcio di oggi è importante. Tra l'altro, la squadra di Parigi, anche loro devono vendere, perché giustamente Donnarumma e Ramos li hanno presi a zero, ma li danno un ingaggio alto, hanno speso comunque tanto per Aschaf Rakimi, quindi, voglio dire, devono vendere, non siamo i soli che dobbiamo vendere, no, per comprare. Comunque, niente, io Caleon, sapete come la penso, non approvo questo acquisto, capisco che magari può essere un giocatore che può fare da chioccia i giovani, può essere utile, piace a Sarri, nel 4-3 di Maurizio Sarri ha fatto le fortune dei tifosi partenopelli, ha fatti saltare dalla sedia, esultare tante volte, però gli anni passano. E inoltre, aggiungo una cosa, che il giocatore spagnolo potrebbe bloccare la crescita dei giovani, e questo a me non piace, perché finalmente, con l'avvento di Sarri, la Lazio sta un po' invertendo il modo di lavorare, cambiando il modo di lavorare, scusatemi, perché, se guardate, non ha rinnovato a Parolo, non ha rinnovato a Lulic, che li vogliamo bene, ma erano giocatori finiti, Radu è rimasto, ma ci sta, diciamo, come storico capitano, come giocatore anche lì che fa da chioccia i giovani, ci può stare, poi un giocatore fisicamente che sta bene. Però, Raul More è stato inserito in prima squadra, è arrivato Romero, è arrivato Kamenovic, che sta impressionando bene, quindi, vedete, mi piace questo modo di lavorare, speriamo anche di far crescere qualche giovane nel nostro vivaio, non di andargli a comprare in giro, anche se poi, per esempio, Romero siamo stati bravi a soffiarlo a zero alla concorrenza. Però, sti giovani, se sono bravi, vanno fatti giocare, ragazzi, non abbiamo paura, perché all'estero, ormai 2003-2004 lo giocano, cioè, 2003 hai 18 anni, non hai 15 anni, ormai siamo nel 2021, cioè, ormai un 2000 nel 2021, so che fa strano, anche a me fa strano, perché io sono del 99, mi sento un ragazzino, però, capito, no? Un giocatore del 2003, già gioca in Serie A, all'estero giocano, Bellingham, cos'è, 2004-2003? Era in nazionale inglese, tranquillamente, e è stato chiamato in casa da South, che gioca nel Dortmund, vi potrei fare tanti altri esempi, noi abbiamo paura di buttare sti giovani, Raul More, a me sembra pronto, poi, non bisogna mettergli troppa pressione, non è che le sorti della Lazio dipenderanno da More o da Romero, Romero poi è 2004, magari ancora un anno in primavera, è appena arrivato, non li mettiamo a fretta. Però, se è bravo, va fatto giocare, e solo facendoli giocare capiremo se sono bravi, quindi cosa facciamo? Prendiamo Calleon, gli diamo anche un ingaggio importante, perché percepirà minimo un milione e mezzo, ipotizzo, più o meno, magari ti chiede anche un contratto di un anno con opzione per due anni, e magari poi ti blocca la crescita degli altri, perché poi Calleon vuole giocare, se sta bene, e inoltre aggiungo che Calleon non è un giocatore tecnico, particolarmente tecnico, un giocatore di corsa, di inserimento, non vi ricordate? Lasse in signe Calleon, quindi se viene meno la tenuta fisica, ci sono infortuni eccetera, come è accaduto in questi ultimi 12 mesi, viene meno il giocatore, capito? Non è un giocatore che è giocando da fermo, no, è un giocatore di corsa, capito? Come Candreva, Candreva appena è un po' calato fisicamente è diventato un giocatore normale, alla Lazio vi ricordate era un treno, ma non è che tecnicamente era un fenomeno, è chiaro? Ma come anche Nainggolan ad esempio, che era un giocatore di tenacia, Vidal, cioè appena quei giocatori lì calano un po' fisicamente, va avanti l'età, magari non fai una vita da atleta, qua l'esempio di Vidal e Nainggolan, diventi un giocatore normale, non scarso, ma normale. Quindi sinceramente io non approvo l'acquiso di Caléon, però dovesse arrivare come riserve eccetera, lì a destra alternare Felipe Anderson e Caléon mi può anche andare bene. Poi in seguito alla gestione eventuale di Correa, allora però c'è bisogno di un esterno concreto, alla Brandt, alla Orsolini, capito? Insigne dovrebbe rinnovare col Napoli, ma sappiamo che era un sogno irrealizzabile. Chiudo questo video parlando della difesa, perché non si parla di difensori centrali. Una domanda che mi chiedete spesso e sembra che la Lazio, che Sarri, stia aspettando Vavro, nel senso che verrà valutato Neri Tudor da Oronzo, anzi diciamo che lo sta valutando, dovesse convincere la difesa titolare sarà Luis Felipe Acerbi con Vavro e Radu come riserve, eventualmente Kamenovic, che è sinistro, Kamenovic, Mancino, può fare sia il difensore centrale sia il terzino. Sinceramente non approvo questa teoria della società, tornando alle parole di Lottito che ha detto Rosa Competitiva, sì ma per cosa Claudio? Cioè per il quarto posto o per provare forza ad arrivare quarto? Perché io quest'anno non pretendo nulla, assolutamente. Ho detto ai tifosi laziali, vi mando questo messaggio, non fossilizziamoci, scusate, a pensare al quarto, quinto posto. Però dobbiamo costruire qualcosa. Ragazzi mi suona il campanello, chiudo, signori serve un difensore centrale secondo me al di là di Vavro, bella. E fermi tutti ragazzi, ecco qua infatti mi è suonato il campanello, mi sono arrivate le maglie da 6 calcio, trovate il link in descrizione, poi ve lo farò vedere in un altro video. Comunque stavo dicendo appunto che affidarmi, sperare che Vavro convinca sinceramente non è una cosa da società che vuole puntare a grandi obiettivi, è chiaro. Quindi un difensore secondo me serve, a meno che poi Kamenovic e appunto Denis Vavro convincano a livelli incredibili. Però sai, a Serbia anche un anno in più, passiamo alla difesa 4, quindi secondo me necessitiamo di un difensore alla Romagnoli, tanto per dire un nome, poi so che non arriverà. E niente ragazzi, se volete maglie, sono arrivate le maglie anche dell'Europeo e quindi mi raccomando, 6 calcio, link in descrizione. Bella ragazzi!